Sarebbe una catastrofe dal punto di vista... Innanzitutto bisogna vedere cosa vuol dire uscire dall'euro. Se noi i nostri debiti, per esempio, con l'estero e il debito pubblico, sarebbe denominato in euro o in lire. Ipotizziamo che una valuta si chiami da lire. Se vengono denominati in lire, praticamente lo Stato dichiara un fallimento nei confronti di tutti i mercati internazionali. Cioè dice, io vi dovevo un euro e ora vi restituisco una lira che probabilmente è depreciata. Dunque, perdiamo la fiducia di tutti i mercati. Siccome noi abbiamo bisogno di andare sui mercati per emettere, nessuno presterebbe più al Paese. Dunque, cosa vuol dire? Vuol dire probabilmente che lo Stato non avrebbe più i soldi per finanziare la spesa pubblica, dovremmo ridurre immediatamente la spesa o aumentare ancora di più le tasse. Poi, naturalmente, giustamente porterebbe all'inflazione. Vi ricordate l'inflazione degli anni 70? Chi ci perdeva, tra l'altro, l'inflazione? La povera gente. Chi non aveva la possibilità di proteggersi? E qui, tra l'altro, se lo Stato non rimborsasse più il debito interamente, il sistema finanziario collasserebbe. C'è tutta una serie di problemi. Tra l'altro, non è che si passa dall'euro alla lira in un giorno. Bisogna programmarlo e alla paura, se si scatta la paura del passaggio all'euro, tutti andrebbero in banca a cercare di ritirare l'euro, che porterebbe a un collagno.